delle miniere, hai capito? Noi per quello lo facciamo, per i 301 operai, sopporti sotto le miniere. Grazie a tutti. Buonasera Roma, iniziamo, poi parleremo ancora della strage purtroppo. Ora per iniziare, se dalla regia mi confermano, mandiamo il nostro inno per le europee per iniziare a scaldare la piazza e iniziare a presentare gli ospiti e tutta la squadra di presentazione che insieme a me condurrà questo evento. Un grande applauso che iniziamo!